Ma quanti segreti hanno i gatti? I gatti sono animali misteriosi e affascinanti. Sono indipendenti e autonomi, ma sono anche molto affettuosi e leali. Sono animali antichi, che hanno vissuto accanto agli esseri umani per migliaia di anni. Perché i gatti hanno tanti segreti? Ci sono molte ragioni per cui i gatti hanno tanti segreti. Innanzitutto, sono animali predatori, e la natura li ha dotati di un'intelligenza e di una sensibilità che spesso sottovalutiamo. I gatti sono molto bravi a nascondersi e a mimetizzarsi, e hanno un'ottima capacità di osservazione. Sono anche molto curiosi, e amano esplorare il mondo che li circonda. In secondo luogo, i gatti sono animali molto emotivi. Sono in grado di provare una vasta gamma di emozioni, come gioia, tristezza, rabbia e paura. I gatti usano diversi modi per esprimere le loro emozioni, come le fusa, il miagolio, la postura del corpo e il linguaggio del corpo. In terzo luogo, i gatti sono animali molto territoriali. Hanno bisogno di un proprio spazio, e amano difenderlo dagli altri animali. I gatti usano diversi modi per marcare il loro territorio, come le feci, l'urina e le ghiandole odorifere. Come i gatti si scusano con gli umani. I gatti sono animali molto affettuosi, e amano stare con i loro umani. Quando fanno qualcosa di sbagliato, possono sentirsi dispiaciuti e cercare di scusarsi con i loro umani. Ecco alcuni modi in cui i gatti si scusano con gli umani. Si strofinano contro di noi. Questo è un gesto di affetto e di sottomissione. Il gatto sta dicendo al suo umano che gli vuole bene e che vuole essere perdonato. Ci fanno le fusa. Sono un segno di contentezza e di felicità. Il gatto sta dicendo al suo umano che è felice di riconciliarsi. Ci offrono doni. I gatti sono animali predatori, e i doni sono un modo per loro di dimostrare il loro affetto e la loro gratitudine. Il gatto potrebbe portare al suo umano un giocattolo, una preda o anche un pezzo di cibo. Ci seguono dappertutto. Questo è un segno di attenzione e di devozione. Il gatto sta mostrando al suo umano che gli vuole bene e che vuole stare con lui. Cosa i gatti amano fare? I gatti amano dormire, giocare, cacciare e stare con i loro umani. Dormire è una delle attività preferite dei gatti. I gatti dormono in media 16 ore al giorno. Dormono per riposare, per conservare energia e per proteggersi dai pericoli. Giocare è un'altra attività molto importante per i gatti. I gatti giocano per divertirsi, per imparare e per esercitarsi. I gatti usano il gioco per simulare la caccia, per sviluppare le loro abilità motorie e per socializzare con gli altri gatti. Cacciare è un'attività naturale per i gatti. I gatti sono predatori, e hanno bisogno di cacciare per sopravvivere. I gatti cacciano per procurarsi il cibo, per esercitarsi e per mantenere la forma fisica. Stare con i loro umani è l'attività preferita dei gatti. I gatti amano stare con i loro umani, e amano ricevere coccole e attenzioni. I gatti usano il tempo trascorso con i loro umani per rilassarsi, per sentirsi al sicuro e per mostrare il loro affetto. I gatti sono animali meravigliosi, con un cuore grande. Sono creature spirituali dotate di un'intelligenza e di una sensibilità che spesso sottovalutiamo. I gatti hanno tanti segreti, ma sono segreti che vale la pena conoscere.